Oggi cuciniamo la trota ghiacciata, importante, è un procedimento molto antico Prima di tutto prendiamo la nostra trota, tagliamo a metà la trota Per lungo stavolta, attenzione eh ragazzi Una volta posizionata, va messa sul fornello Very nice Nel mentre tagliamo la zucca e lo zenzero in più parti possibili eh Andiamo a prendere la nostra trota che nel frattempo si è cotta, grigliata, tutto quello che l'è Con delicatezza, attenzione eh ragazzi Prendiamo lo zenzero che abbiamo tagliato, lo mettiamo Andiamo a prendere un po' di vino, perché questo piatto ha un retrogusto di vino Eh lo mettiamo qua, perfetto La trota ghiacciata, perché ghiacciata? L'abbiamo grigliata quindi è strano L'ingrediente segreto che usava mia nonna era proprio l'estintore sopra il piatto per dare giusto quel tocco di Basta, c'è proprio solo un pizzichino Dopodiché il piatto è pronto per essere servito, ma come sempre ragazzi la fotina di rito Mamma mia Come sempre seguitemi per altre ricette Grazie a tutti